Musica Cari telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo subito uno sguardo alla situazione generale prevista per venerdì 30 dicembre. Una fredda saccatura si approfondisce sulle regioni settentrionali, favorendo l'ingresso di correnti più umide meridionali sulle regioni del basso versante adriatico, responsabili di cieli da poco a parzialmente nuvolosi. E vediamo cosa succede più da vicino in Puglia. In Puglia piogge sparse ed intermittenti su Salento e occasionalmente Tarantino e murgi meridionali. Adesso spazio alle previsioni per la Basilicata ed il Molise. In Basilicata Ionica cieli a tratti nuvolosi, in Molise nebbie su Campobasso e aree circostanti, nubi sparse sull'Iserniese. Infine la situazione per temperature, venti e mari. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali, mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature per lo più stazionarie o in lieve rialzo. Con le nostre previsioni è tutto, io vi lascio in compagnia di programmi di Antenna Sud e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie a tutti.